Torniamo a parlare dei pugliesi nel mondo, un progetto nato diversi anni fa per volontà della regione Puglia e che ha come scopo quello di favorire il reintegro dei pugliesi che sono dovuti emigrare all'estero a cercare fortuna. Già tempo fa abbiamo mostrato il budget di quasi un milione e mezzo di euro l'anno, che in teoria dovrebbero andare ad aiutare i cittadini che vogliono tornare in patria, aprendo aziende o iniziando una nuova attività. In realtà, come mostrato, più dell'80% dei fondi si perde in mostre e riunioni in giro per il mondo. Ebbene, oggi vi mostriamo più nel dettaglio qualche voce di questo massiccio finanziamento. Nel piano 2009, ad esempio, si legge di una partecipazione dei pugliesi nel mondo al Salone del Gusto di Torino per una montata di 30.000 euro. Ora, la considerazione che nasce è questa. La Puglia al Salone del Gusto era già ben rappresentata, con uno stand molto evidente e attrattivo. Perché dunque finanziare con 30.000 euro la presenza dei pugliesi nel mondo che a quanto si evince hanno solo fatto atto di presenza. E non solo. Andando a ben guardare altri dettagli di spesa del 2010, cioè di quest'anno, si trovano altre future destinazioni per i pugliesi nel mondo. Per una settimana a Londra, 70.000 euro. Per tre giorni a Bruxelles, 20.000 euro. Svizzera e Madrid costeranno altri 70.000 euro a testa. E per finire, Varsavia. Una settimana da 60.000 euro. Un totale di 290.000 euro per far trascorrere ai rappresentanti dell'Associazione Pugliesi nel mondo una settimana di incontri e riunioni. Non sarà che in tempi di crisi i pugliesi in Puglia poco ne ricavano dalle settimane di ritrovo dei pugliesi nel mondo? Per concludere, un piccolo particolare per nulla irrilevante. Una bella stampa che riassume le politiche dei pugliesi nel mondo. Costato 20.000 euro. Il tutto in piena crisi.